Musica Nasce a Caserta l'Associazione Italiana Donne Medico di cui è Presidente Anna Tarabuso. Ieri pomeriggio nella sede dell'Ordine dei Medici di Caserta la presentazione. A fare gli onori di casa la Presidente dell'Ordine, Erminia Bottiglieri. Perché a Caserta questa associazione? Perché i tempi erano maturi secondo me per riaprire una sezione IDM a Caserta. Effettivamente già era stata aperta nel 1991 ma poi non ha proseguito. Erano maturi perché? Perché noi qui ci stiamo interessando tanto di medicina di genere perché le donne medico casertane sono aumentate. E quindi io penso che l'IDM è una società scientifica che fa parte della federazione delle società scientifiche italiane. E fa parte anche dell'associazione Women Medical International. È una cosa importantissima. E secondo me la donna medico dopo il tanto fare durante il giorno, durante la sua vita, di attività professionale e poi di supporto familiare, famiglia attuale o anche la famiglia di origine, penso che meriti di partecipare ad un'associazione altamente culturale per confrontarsi con le colleghe della zona, con le colleghe altrove, con le altre sezioni dell'IDM, così per arricchirci professionalmente ma anche per avere una maturazione culturale diversa. Quali sono le finalità dell'associazione? Allora innanzitutto l'associazione è un'associazione multidisciplinare. Noi qui abbiamo tante donne medico che si interessano di tanti aspetti della medicina. Quindi l'IDM si interessa soprattutto della salute della donna, oggi soprattutto della medicina di genere e della tutela della donna medico. La salute, si interessa anche di salute in genere, però con particolare aspetto a quello della donna. Comunque è attiva nella prevenzione, nella informazione pubblica, in cui ci credo tanto, almeno per i fini preventivi per quanto riguarda la salute della donna, a rapporti con l'università, con altre società scientifiche, con il territorio. Insomma c'è un bel po' da fare. Infatti è quello che dirò alle nostre socie stasera.